L'argomento così provocatorio è stato scelto da me con la persuasione che bisogna affrontare le domande radicali, cioè che tutte le altre domande, che tutti gli altri dubbi, che tutte le altre ricerche rischiano appunto di restare dentro un orizzonte molto appiattito, molto convenzionale, molto di luoghi comuni che si ripetono e quindi secondo me la sfida delle domande radicali, come abbiamo cercato di porre, è un aiuto proprio a considerare che l'orizzonte più grande, che si possano affrontare anche questioni più di fondo e che il senso generale del tutto rimane una questione che si può affrontare, mentre invece mi pare che serpeggia un po' dappertutto l'idea che sì, ci sono le grandi domande, ma siccome poi non ci sono le risposte è meglio evitarle per non farsi del male, quindi a me sembra invece che c'è un motivo per affrontare le domande profonde e gli aspetti più radicali dell'esistenza umana. Ascoltando il dialogo, questa era la seconda domanda, che cosa ha suscitato in me la reazione del pubblico, le domande fatte dai ragazzi e come mi ha aiutato questo a mettermi un po' dalla loro parte, questo è stato per me molto interessante, in verità ho spesso occasione per incontrare gruppi, per quindi affrontare tante questioni che vengono poste dai ragazzi, però siccome oggi la domanda era un po' radicale, anche le interventi mi hanno molto provocato, soprattutto questa specie di disperazione a proposito del pensiero, ecco cioè come se questi ragazzi fossero un po' rassegnati a fare a meno delle risposte, ecco questo è un po' inquietante per me e quindi credo che io ad aver imparato questo, che forse dobbiamo imparare a tenere vive le domande e a mostrare anche la bellezza delle risposte che riusciamo a dare, cioè non è tanto una questione di dialettica tra domanda e risposta, ma tra libertà che si incontrano, che si confrontano, che si lasciano mettere in discussione, che cercano di condividere alcune persuasioni e di continuare insieme la ricerca, ecco quindi a me sembra che il dialogo sia molto istruttivo proprio per questo aspetto di incompiuto, di un po' di scoraggiamento sulla possibilità che ci sia una verità che illumina e persuade e quindi credo che dobbiamo continuare a cercare.